Allora, ciao a tutti, eccomi, mi presento, mi chiamo Marco e siamo praticamente in diretta da Londra, vedete sullo sfondo si può vedere la città, e vorrei salutare Stefano e tutto il gruppo ST e anch'io ho avuto la possibilità di collaborare professionalmente con questa fantastica azienda e tutto il suo staff. Ho realizzato uno dei miei più grandi sogni, quello di stare all'interno praticamente del mondo televisivo di uno studio TV, come X Factor, The Voice, ho avuto la possibilità di lavorare a stretto contatto con gli artisti, con i VIP, con la musica, con la produzione, eccetera, eccetera. Sono stati dei momenti bellissimi, non li dimenticherò mai, e a questo punto, se avete un po' di tempo, passate in Qualdiviale Piemonte a Colonia Monzese e salutate per me Stefano e Andrea e tutto il gruppo ST. Ci vediamo prestissimo a Milano e ciao!